Un'intesa raggiunta prima di Natale dopo settimane di difficili trattative. L'avvertenza della bestia di Mottefano è giunta alla sua conclusione. Una vicenda iniziata nella notte di Halloween, con l'incredibile sparizione di tutti gli interni della fabbrica per la scelta della multinazionale di trasferire la produzione dei motorini per le cappe nello stabilimento polacco. Rocco Gravina, segretario film CIS di Macerata, illustra i contenuti dell'accordo. L'accordo prima di Natale è un accordo sui quattro punti che noi avevamo a cuore. C'è l'incentivo all'esodo, un sostegno al reddito in casa di integrazione, la ricollocazione e la messa a disposizione da parte dell'azienda del sito a eventuali imprenditori esterni ma privilegiando cooperative e lavoratori della bestia di Mottefano. Abbiamo garantito un reddito, fra virgolette, ai lavoratori abbastanza adeguato, non si può dire però che possono in un anno almeno avere una prospettiva futura. La presenza della nostra truppa nella fabbrica di smessa coincide con il momento particolare come spiega Erika Caimi, delegata a FIMCIS. Oggi stiamo firmando la cassa integrazione, lo spirito ormai sappiamo che è finita. Fortunatamente nella sfortuna ci è andato tutto sommato bene perché abbiamo concluso con buon accordo e soprattutto siamo riusciti a prendere la cassa integrazione che inizialmente non ci aspettava. E ora si guarda al futuro. Già 13 lavoratori hanno trovato un'occupazione. Si tratta di dare una prospettiva anche agli altri 110 ex dipendenti della BEST. Attualmente non c'è nessuna novità, dovremo fare in questo mese un incontro con la regione e gli imprenditori della zona per vedere se c'è un interessamento da parte di qualche imprenditore locale o anche qualcuno di noi lavoratori a rilevare il sito per continuare l'attività produttiva.